Tutti i film più interessanti in arrivo al cinema ad aprile. Il 4 aprile escono al cinema Il mio amico Robot, candidato agli ultimi Oscar come miglior film d'animazione. Monkey Man, un avvincente thriller, diretto e interpretato da Dev Patel. Il nuovo horror Omen, l'origine del presagio. Tatami, tra i film protagonisti dell'ultima mostra del cinema di Venezia. L'11 aprile arrivano in sala Ghostbusters, minaccia glaciale, nuovo capitolo dell'acclamata saga. Flaminia, commedia con Michela Giraud. Gloria, il debutto da regista di Margherita Vicario. E la nuova commedia romantica Coincidenze d'amore. Il 18 aprile saranno al cinema Civil War, che mostra una futura guerra civile negli Stati Uniti. Back to Black, film biografico su Amy Winehouse. Cattiveria a domicilio, con Olivia Colman. Dal 24 aprile troverete in sala Challengers, il nuovo film di Luca Guadagnino con Zendaya, Joshua Connor e Mike Faist. E Confidenza, con Elio Germano. Quale di questi film andrei a vedere al cinema? Faccelo sapere nei commenti. Tutte le serie tv più interessanti in uscita ad aprile. Dal 1 aprile su Prime Video è disponibile la quarta stagione di LOL. Dal 4 aprile su Netflix arriva Ripley, un nuovo adattamento del romanzo Il Talento di Mr. Ripley. Dal 4 aprile su Crunchyroll ha inizio l'anime di Windbreaker. Dal 5 aprile su Apple TV Plus trovate Sugar, una serie thriller con Colin Farrell. Dal 7 aprile su Now arriva il dramma storico Mary e George. Dal 10 aprile su Disney Plus debutta la serie animata Iwaju City of Tomorrow. L'11 aprile su Prime Video verrà pubblicata la prima stagione di Fallout, ispirata alla famosa saga videoludica. Il 13 aprile su Crunchyroll ha inizio l'anime di Kaiju numero 8. Dal 23 aprile su Netflix debutta Briganti, serie tv italiana ambientata nel XIX secolo. Dal 27 aprile su Paramount Plus troverete Knuckles, dall'universo di Sony. Sul nostro profilo e sul nostro blog trovate l'elenco completo di tutte le uscite per ogni servizio di streaming.